Wow è bellissimo hai pure fatto l'insegna con scritto a scuola hai visto la scritta a questo punto non ci Rimane che aprire questa scuola salve è permesso si può entrare e per questo a Ma vedo che ti sei messo comodo la prima lezione con i nostri nuovi studenti questa una bella orchidea qui E una anche da quest'altra parte cos'è il campanello Cosa misera sempre i soliti seccatori anzi so già che tipo di seccatore mi sono preparato per fortuna ora glielo faccio vedere io Sempre a disturbarmi sempre a venire qua e rovina va Espi Ciao come va Espi cosa devo fare con quel mattello niente Hai compagnia vedo volevo venirti a trovare perché sono arrivato nel villaggio qua vicino C'è mio cugino qua paolino e mi hanno detto che c'è un problema no il villaggio molto povero espi vabbè quindi cos'è che vuoi perché Dio io volevo cacciarti con male maniere ma non posso insomma ci sono Bambini che ti sono venuti a chiedere insieme a me Possiamo costruirgli una scuola I chilometri di un attimo dentro che non mi sento un po disagio a parlarti Che la costruiamo qui vicino della faccia di paglia io paglia e fango Ma no Espi poverini cosa sono in africa no dai devono avere una bella struttura dove studiare E va bene va bene Ma pensa pensa che verranno da tutto tutta la regione insomma anche per agi vicini altri bambini Vabbè a parte il fatto di fare una buona azione che c'è una cosa bella però porca miseria Stirai la scuola insomma insieme a me e il sindaco dei dei villaggio qua e anche quelli vicini forse se gli parliamo bene Sarà molto riconoscente del suo gesto perché non si fa la scuola da solo ma vabbè ho capito io lo faccio più che altro per una buona azione Poi entrare tu non mi fai assolutamente pietà Bambini entrate ma se dobbiamo costruire la casa qui non li far entrare in un cantiere in costruzione che si fanno male Tieni lì fuori hai anche ragione espi dove rilascio a me me li hanno affidati boh vabbè hanno scelto proprio miglior babysitter del mondo Facciamo una bella cosa fagli una mini casetta che ti do un po di materiale anch'io con i poveri materiali che mi sono rimasti Ecco Meno male che non voglio io nel frattempo vado a dire addio alla mia casa che come al solito verrà trasformata in chissà che cosa Sì te ne compri un'altra e poi avrai la costanzia E poi voglio un sacco di diamanti e biscotti dal sindaco non dimenticartelo almeno i miei bei libri fammeli tenere Porca miseria ci ha messo un sacco a prepararli craftarle tutto quanto e ogni volta me li perdo piuttosto vini a darmi una mano e dirmi Se secondo te va bene non sono troppo bravo con i bambini Ma hai fatto una casa in piena regola ma guardate è bellissima vorrei avere anche una casa fatta bene così o mio dio ma è piena di Ma vabbè ma li stai viziando gli hai messo gli orsacchiotti gli hai messo le cose ci vorrà un po e quindi gli ho dato un po di cose con cui Intrattenersi ma l'unica cosa che fanno è fissarmi sono in cui tantissimi continuano a seguire poi questo qua questo non respira nemmeno col naso sempre la bocca aperta Ok bambini voi rimanete qua e noi facciamo la scuola ok chiudi a chiave Eh spi cosa io non mi fido di questi io Come li murati vivi dentro ma sei matto se c'è un'emergenza No io hanno le finestre hanno l'aria e tutto Ah vedo che ti sei già portato avanti hai tirato giù già un po di cose che non servono Beh almeno i miei libri sono sicuro Eh sì sì quindi adesso devi togliere praticamente tutto Via 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 Come sempre togli tutti i mobili che non c'entrano con la scuola Almeno i miei libri ti vanno di legno era così comodo me lo fai nemmeno tenere Tu finisci qua che io intanto vado a prendere il resto delle cose dal furgoncino Come dal furgoncino ma non ho visto nessun furgoncino dove hai messo il furgoncino stavolta Eh sì perché in realtà Mi stai prendendo in giro Mi stai prendendo in giro In realtà Tutti ma c'è veramente Ma cos'è questo è una scuolabus Ma Luca ma ti pare normale Eh beh ho detto già che c'eravamo ho detto Cambio un pochettino ed è venuto Proprio al risparmio eh il tuo furgoncino vuoi portare tutti i materiali e pure lo scuolabus Eh comunque ci servirebbe anche un autista Ma come l'autista? Così facciamo fare il giro di questo a tutti i villaggi Ma com'è che hai portato questo scuolabus fino a qui allora? Ma vabbè ma è chiaro l'ho fatto qui L'ho fatto guidare a Paolino Ma come l'hai fatto guida? Vabbè non voglio sapere niente Prendi quei materiali e portali dentro va Che è meglio così Ti stavo lasciando giù le cose per la cucina no vedi Ah per vedere Tutto il necessario per arredare la cucina Mi interessa E infatti guarda cosa ho fatto di qua Mi sono portato un po' avanti Intendi la mensa vero? Perché alla fine diventerà una mensa E la mensa e la cucina insieme E qui cosa hai fatto? Un sacco di cesti diverse Qua ho scaricato tutte le provviste Tutti i materiali necessari Oh che ci serviranno per Per arredare e costruire Ah a proposito Che cosa? Qua ci sono i nuovi materiali per muri E pavimenti È vero è vero ci stiamo dimenticando Le pareti E i soffitti Tutto quanto Porca miseria Non possiamo lasciare una schifezza Cioè mi sto insultando la casa da solo Ma insomma in effetti non è adatto per una scuola Bello resistente e classica scuola Oh porca miseria Mi ha fatto prendere un colpo Ok pensavo la stessi distruggendo Comunque mentre tu fai tutte queste cose Ristruttori qui fuori Non è che mi puoi dare qualcosa da fare Magari qualcosa da arredare eccetera eccetera Perché voglio Odio starmi qui con le mani in mano Ma puoi iniziare con la cucina se vuoi Dici? E dovrebbe essere pronto il nostro muro separatore Fra mensa E questo che dovrebbe essere una sorta di corridoio Carino È carino Mi piace mi piace Ma aspetta ma qui cosa che ci mettiamo Cioè c'è soltanto C'è un mobiletto Ah è vero è vero Questa parte ci avevo anche pensato Se qua apriamo Uh l'infermieria Ottima ottima idea Ma ti avevo preparato tutte le cose mediche insomma per aiutare i bambini che si fanno male o qualcosa E questa stanza è perfetta Perché è abbastanza grande È anche veloce da accedere È giusto di fronte all'ingresso Così quasi iniziare la cucina Un po' di lavoro da fare Un bel doppio frigo qui Guarda che spettacolo E poi cosa abbiamo Abbiamo Ok di fuori Oh ma questi sono Ma questi sono dei tavoli Ah mi sa che mi sono messo una sveglia in testa E non è colpa mia Ok ho premuto velocemente nell'inventario Guarda se non sono dei perfetti tavoli da mensa questi Oh mi piacciono Belli spaziosi Sono veramente spettacolari E ora mettiamoci invece la cosa più importante Un bel tagliere Pieno di carote E ovviamente dei coltelli Perché ovviamente nessuna scuola può fare a meno di una Di una cuoca assassina Dei coltelli Sì di una cuoca assassina Che incontra e timore a tutti quanti Non lo so perché Forse sono andato in scuole molto strane io Ah Espi mi sono dimenticato di darti i banconi Come? Ah è vero Puoi mettervi qui Oh tipo così? No aspetta al contrario Porca miseria Ogni volta mi confondo Praticamente qua c'è un problema no? Qua visto che tu non sei capace di fare le cose Hai fatto il muro spesso uno Eh ok infatti Se io spacco siamo fuori E poi deve essere di mattoni E dentro di coso Quindi noi cosa facciamo? Uniamo i mattoni Cos'è questa macchina? Mi permette Guarda guarda Apri la Apri la Guarda che sta unendo Oh di unire due blocchi in uno Così da una parte E mattoni dall'altra E quarzo Così da dentro non ti accorgi E da fuori nemmeno Ed ecco qui anche l'ultimo piatto super lusso Mamma mia questa è diventata una scuola per super ricchi Da come ho redato questo tavolo E tu cosa stai facendo? Eh non so se lo potranno permettere Ma sì che se lo potranno permettere Se non se lo potranno permettere loro almeno il sindaco Mi ripagherà vero? Guarda un po' cosa ho portato da casa Oh cosa sono quelle cose? Ma sono degli standardi Uno qui uno qui Oh ma sono due pagnotte Qua abbiamo detto l'infermeria Qua ci sarà il tuo scabuzzino Come il mio scabuzzino? Davvero sarà qui il mio scabuzzino? E beh sì tu devi fare il bidello no? Con le scope Come devo fare il bidello? Ti ho messo qua un paio di cose Come è che devo fare il bidello? Non mi avevi parlato Uno che lo deve fare se Ma no qualcuno lo deve farlo E vabbè ma non io Io sono l'ex proprietario di questa casa Ma perché no? Ma perché Si avrei solo portato Stanzino qua tutto tranquillo Io pensavo di fare il preside Luca Cioè porca miseria Sono l'ex proprietario Tutto quanto Cosa stai facendo? Ma lascia stare il soffitto Vabbè non importa Ok questa cosa la risolveremo più avanti Maledetto Magari quest'angolo qua Un po' strano Cosa ci possiamo mettere qua? Ah non lo so Una sorta di bagno Il bagno possiamo metterci Una turca Un buco Che bagno? Così si può andare in bagno Scusa uno quando ha finito di mangiare Poi gli viene da dare in bagno Almeno si mette qua Cosa vogliono i bambini? Ah Ma è ovvio La birra Ma come? No no la birra no Non puoi mettere la birra qui Il rubinetto segreto della birra Ma come? Nica tanto segreto Tutti lo vedono Ma mettici qualcosa davanti Una tenda Qualcosa che lo copra Una tenda? Ma davvero? Eh una tenda E io solo questa Eh vabbè Metti quella Che cosa vuoi che sia? Oh è una È una tendina Ok così nessuno la vede Perfetto La birra più nascosta di sempre Guarda lo apri Sembra un piccolo altarino Lascia stare Chiudi Che nessuno deve scoprire Del rubinetto segreto Basta Direi che con questo abbiamo finito la cucina Oh perfetto Mentre Mentre qui scusa Cosa che mettiamo? Allora qua c'è l'infermieria Ma il mio stanzino delle scopi Che poi non sarà mio Però ha fatto lo stesso di arredarlo Mi dai qualcosa Mi dai qualche materiale? Qua c'è un po' di roba Qua ci sono due scopi E poi ne avevo portato E cioè scusa Due scopi E uno stile cessi Non lamentarti Cioè guarda ecco Arredato il mio stanzino La stanza più povera Di tutta la scuola No ti sbagli C'è anche il mocio Due Oh mio dio Mi sento veramente ricco adesso Beh in effetti L'armadio delle scopi Potrebbe essere utile Aspetta aspetta Che ci metto dentro effettivamente le scopi Così sono a posto E non ingombra E non ci inciampo ogni volta Piano per mettere tutti i prodotti per pulire Ma scusa ma cos'è che dovrei metterci Tanto sono poverissimo in ogni caso Eh non lo so Un po' di detersivi Detersivi? Ok Ok Poi metterci i piatti Le cose per Tipo questi che ho fregato dalla mensa Non lo so Ok ma non so cosa può essere utile Se qualcuno ti chiede la carta igienica Ma come la carta igienica Ma che schifo Ma mica vado a portare la carta igienica nei bagni Eh sì certo Ma come sì certo Porca miseria Cosa mi tocca fare Ma espiti Stavi per dimenticare la cosa principiale Vieni qua un attimo Dove lo vuoi il letto Va bene qua così Oddio santo Ma che razza di letto brutto è Sembra un po' una cella così Però Certo che è una cella a letto grigio Tutto quanto Ti ringrazio eh Spero che ti piace già un sacco Adesso Dopo aver fatto la tua stanza Magari facciamo la mia Come la tua stanza Ma che cos'è Ma è bellissima e gigantesca Ha delle finestre grandissime Tutto quanto Come la presidenza Ma anche io sono un preside Sì ma in realtà lo siamo insieme Solo che E allora E allora E sì ma per io mi becco lo sgabuzzino E tu ti becchi la cosa super moderna E super bella Giusto giusto Quello che mi sono portato da casa Che cos'è ma è lo stendardo Di un dragone Ma stai scherzando Eh vabbè per la presidenza Ma come Non ci vuoi fare Ma cos'è il simbolo della tua casata Ma ti ammi la vanna da arredare piuttosto Luca ha un piccolo problema con la lampada L'ho messa storta Ma che ti amo l'hai fatta la lampada Eh non lo so Si è messa così da sola Ma come fai a metterle così le lampade Senti ti ho detto che è stata una sua scelta E guarda qua Una bella sedia per stare comodi Eh vabbè ma è una sala del trono questo ormai Non pensi di aver esagerato un pochino Vabbè Insomma per il preside Ultimo Decorazione E poi direi che è perfetto il mio ufficio Ma questa è un'armatura medievale Ma non pensi di aver esagerato un po' Ma si Sai quelle cose lì Ma scusa ma Tutta roba che non ho mai visto prima Cioè io mi faccio un sgabuzzino povero Eh ma l'avevo un po' in tasca E tu ti metti i dobloni sulla scrivania Ed infine qui La vaschetta per gli uccellini Oh questo bel cortile E' uno spettacolo Altalena Scivola e tutto quanto Viene a dare un'occhiata Guarda il miglior cortile scolastico Di sempre Guarda come lo ha redato E' un po' all'aperto I bambini potrebbero scappare Però vabbè E lo sai che sono disciplinati Al massimo ci mettiamo una recinzione elettrificata Tutta intorno Che problema c'è? Che non mettiamo magari anche qualcosa Per farli divertire tipo Un canestro Perfetto Possiamo fare anche un mini campo da basket Ottima idea E pure il pallone Mio Dio che bello E poi una bella sedia Oh Per la nostra sedia E almeno qui sono d'accordo Una segreteria come si deve Però adesso mi sa che tocca fare l'infermeria qui dietro Perché altrimenti se qualcuno si fa male E' un problema Vado a prendere io le cose che servono Non ti preoccupare Oh io ho rifatto il pavimento Perfetto Allora io ho portato un sacco di cose in infermeria Il letto su cui possiamo mettere i malati Un bel tavolino da mettere qui accanto Perfetto Mi piace un sacco E un bel si pare Per dare la privacy ai malati E anche per evitare la diffusione delle malattie Perfetto Guarda qui Poi un carrellino dove si porta il pranzo Ovviamente Un po' di medicine Ovviamente Per guarire i malati Ed infine Uno steno scopro Ci stanno le pillole Guardate che spettacolo E' perfetto Adesso abbiamo anche l'infermeria pronta E devo dire che non manca molto a questa scuola Forse Le aule Giusto Le aule Già Ma ti c'è Spi Facciamo un piccolo salottino D'attesa per i genitori Perfetto Il salottino d'attesa per i genitori Esattamente quello che ci vuole Però mi raccomando Sbrighiamoci Perché la priorità di questa scuola È solo la scala Che porta al pieno superiore E le aule Spacca spacca Si deve aprire un bel Perfetto Verso il pieno superiore Poi Una bella scala Che dici Mi piace come da un bello scalone Verso il pieno superiore Devo uscire un po' fuori Ma va bene Va bene Perfetto Ok Luca Visto che allora il tetto deve andare giù Io lo spacco No 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 Fermo 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 che spacchi Che cosa? Che spacchi Muovo io Ma come muovi tu? Ma deve andare giù il tetto Qua non te lo ricordi questo? Sì però Porca miseria Non pensavo che servisse anche alzare i tetti Wow Che roba pazzesca Qui dobbiamo soltanto posizionare i muri E abbiamo tutto quello che ci serve Banchi, cattedra, lavagna Vieni qua Espi Vieni qua Guarda che processi che ho fatto Vieni vieni Hai sistemato sopra? Hai fatto il muro? Hai fatto tutto quello che ci serve? Eh sì Ha bisogno anche delle pareti Ma guarda qua Mamma mia Uh hai fatto Pavimenti Hai fatto della suddivisione Pareti Tetto È spettacolare Una grande finestra Ho pensato Che hai fatto qua? Di dividerle in due principali stanze Questa è la laura principale Non avremo tantissimi studenti Quindi credo che un 20 30 posti Bastino Insomma Sì sono anch'io d'accordo Non facciamo una cosa esagerata Invece da questa parte cosa c'è? Poi di qua Mettiamo un piccolo laboratorio Mi piace com'idea Mi piace com'idea Mipo chimica Tutto È un laboratorio di scienze in pratica Mi piace Mi piace un sacco com'idea E che dici se già metto il primo pezzetto Una bambola anatomica Non guardarmi è storto Lo so che è inquietante Ma che ci posso fare? Che carino Adesso faccio tutte le pareti Guarda Perfetto Bravissimo Nel frattempo Io posiziono La lavagna Della nostra classe Guarda che spettacolo Non è bellissima Ci sta da dio Con tutti questi banchi Che ho già posizionato Una bella cattedra E sì ci manca qualche luce Altrimenti non si vede nulla Qui dentro Vieni qua Vieni qua Vieni qui Che c'è? Che stai facendo? Uh bella staura Ti servono delle sedie? Non lo so Mettine un Uno Magari Una C'è poco spazio Grazie Perfetto Ottimo E a questo punto Tu metti giù questi Questi Tutto questa Apparecchiatura Scientifica Un po' di roba Mi piace Mi piace Guarda che spettacolo Microscopio All'ambicchio E cose varie Per la vivisezione Magari Ma che cosa stai a dire Ma che schifo Ma come si fa Nelle scuole Ma dai No 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 Qui la vivisezione preemita Anche perché abbiamo Un animale Come preside Cioè te E qui Per allegrare Il tuo ripostiglio Guarda un po' Cosa ne mettiamo Questo e questo Che cosa Delle faccine felici Vorranno venire Ma stai Mi prendi Giro Intanto che Prima bidelle Per mettere Le faccine felici Intanto che Non stai Nemmeno mi ascolti Grazie Stai arredando su Guarda cosa ho fatto io Ma è bellissimo Hai scritto scuola Cos'è una stata La scritta Insegna È fantastica Quasi quasi Ti perdono Per le cattivere Che mi hai fatto Fino adesso Visto che abbiamo finito Tutto Anche laura Il piano di sopra Che dici andare A chiamare i bambini E mostrargli la scuola nuova Possiamo andare Oddio Espi No Salva Le fiamme Spacca Spacca Perché le chiusi Rai Ho detto che non era Buona idea Spegni Spegni La porta Sei tu che hai murato La porta Ecco come sto Prendo anche il fuoco Dove sono Stanno bene Dove sta Ci sono Dove sono finiti Ma dove D'al diavolo Si sono cacciati Pensi che Siamo riusciti a scappare Da qualche parte Non lo so Non che non li ho presi Io Figurati Luca Magari sono bruciati Prima che No sono qui Sono qui Luca Sono qui Sono salvi Per fortuna Te l'ho detto Che sti disgraziati Scappavano Meno male Che sono andati via Ma cosa sta dicendo Luca Sono stati loro A dar fuoco Alla casetta Mi sta di sì Sai Sono quasi certo Pistelli disgraziati Compagniamoli a scuola Piuttosto Prima che si facciano male Venite Attenti a non andare Nelle fiamme Seguite Luca Il preside Soprattutto Gennarino Non è che sia un massimo Dell'intelligenza A quanto pare Ha preso da te Luca Porca miseria In un punto Si è andato a finire Però non ci siamo ancora Presentati i bambini Oh è vero Non l'abbiamo Bambini Io e Luca Siamo i nuovi presidi Della vostra scuola Aspetta no Cosa stai dicendo No 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 Cosa stai dicendo Come ci siamo messi d'accordo Tu non sei il preside Ma come non sono preside Un preside Ma come Io E tu sei il vidello Bambini questo è il bidello Vedete i baffi Ma come non è vero Non è vero Sono il bidello Pronto per andare No Se si serve qualcosa Andate qui alla stanza felice Se vi serve qualcosa da me Ma state attenti A chiedere qualcosa a me E qui la stanza col dragone Ma come non è giusto Dai Espi Comunque non armentarti davanti ai bambini Vini qua Vini qua Lascia i bambini Dimmi Cosa c'è Armentarti davanti ai bambini Eh ma scusa Facciamo brutta figura Voglio fare presti eppure Io non posso fare il bidello Facciamo un periodo A testa Una settimana A turno Una settimana Io C'alterniamo Ma si Non preoccuparti Va bene dai Va bene D'accordo Questa volta farò I bambini Eh contentissimi Non li vedi Salve è permesso Si può entrare Quindi è per questo Salve buongiorno Si si interrompo Si è posizionati tutti bene Sei arrivato qua Con quello che ti ho chiesto Esattamente Ecco lei Una bella Porzione Di porco Gigante Ma come Ma come Ma come Ma come Ma come Ma come Si è riuscito Più grande del previsto Ma Ma le occupa Tutta la cattedra Fai così Tu intanto Porta giù i bambini In mensa Che è ora di pranzo D'accordo Beh si vede Un po' Le regole Così Intanto Poi tu Adesso D'accordo 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 Allora Li porto giù E poi ci aspettiamo Per il pranzo Venite venite Bambini Non abbiate paura Fate attenzione al parco Che occupa metà stanza E dai Cennarino Muoviti Sempre l'ultimo Porca miseria Dai 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 Tutti in mensa Che appena torna il preside Ci facciamo il nostro primo pranzo All'interno di questa scuola Ora sedetevi E aspettiamo con pazienza Va Oh Eccoti qua Finalmente Era ora Ci hai fatto aspettare un sacco Abbiamo ancora i piatti vuoti Qua Ah A proposito di quello C'è un problema No Che problema Non abbiamo niente Ma stai masticando sbaglio Eh non c'è il cuoco Ma come non c'è il cuoco Ma cucina Tu per una volta C'entra mangiare per oggi Vabbè Ma come dite mangiare per oggi Ma stiamo scherzando Il primo giorno Poi Che c'è di strano Ma la cosa streca Ti ho parlato un porco gigante Su in aula E tu mi dici che non c'è da mangiare Vuoi dirmi che il porco che mi dato Era l'unico Quello è andato L'ho dovuto spedire Spedire? Ma dove? Che non c'è nemmeno il corriere Abbiamo andato via Perché è surgelato Donna quello non si può mangiare Ma cosa? Ma te l'ho cucinato prima io Era caldo e fragrante Comunque vabbè Mi è stato un piacere Mi trovate nel mio ufficio Se vi servo No 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 Non possiamo accettare questa situazione Andiamola a prendere ragazzi Vieni qua maledetto Fatti prendersi Corazzo Vieni qua Prendetelo Prima gli fai la casetta E fai tutto gentile Ma cosa volete? Senza cibo Alla faccia del buon preside Non ho più nemmeno cibo Ma ti sei appena mangiato un porco Ma mi ha costruito la scuola Sono il vostro preside Prendetelo Ma cosa gli dici di fare? Mi sa che non sei più il nostro preside D'ora in poi questa scuola Governerò io E non mancherà mai il cibo A differenza della scuola prigione In cui volevi tenerci tu No No Aia Aia Prendetelo I miei prodi Quindi gente Questa ora Trasformiamo la mia casa In una scuola In compagnia di Luca Non dimenticate Lasciatete se mi piace E commenti Diteci qual è stata la vostra stanza preferita E noi ci vediamo la prossima volta Ciao ciao Ciao